Buonasera, sono Giuseppe Mancuso da Palermo. Sono uno studente del Conservatorio Alessandro Scarlatti. Ho già conseguito l'area triennale e attualmente sono iscritto al corso specialistico. Questo è il mio video di candidatura per Pionesi di Napoli e spero di potervi fare ascoltare la musica di Chopin di cui ci sono veramente legato. Adesso vi farò ascoltare l'Opera 25 numero 1, in la bemol maggiore. Grazie. 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 Grazie.